Sono diversi i punti intorno ai quali si è soffermato il Vice Ministro all'interno Filippo Bubbico in occasione della sua visita a Catanzaro e durante la quale ha avuto modo di incontrare le diverse autorità politiche e militari del territorio. Dalle difficoltà economiche alle criticità che riguardano gli amministratori locali, dalla necessità di incrementare le forze di polizia e i magistrati, alla necessità di cooperare con i cittadini per combattere il fenomeno mafioso. Ed è soprattutto ai cittadini che Bubbico ha lanciato un messaggio esortandoli a sentirsi titolari di diritti, piuttosto che destinatari di favori. Il Vice Ministro ha presenziato alla sottoscrizione del protocollo stipulato a livello nazionale per la prevenzione della criminalità ai danni delle rivendite di generi di monopolio, sottoscritta dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, e dal presidente provinciale della Federazione Tabaccai, Carlo Miglio. Al tavolo in prefettura erano presenti anche il presidente della provincia, Enzo Bruno, il sindaco Sergio Abramo, il questore Giuseppe Racca, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, e i vertici delle forze dell'ordine. Quando ci sono problemi si invocano sempre maggiori presenze in termini di forze di polizia e di attività della magistratura. Io trovo che spesso questo sia un alibi, perché chi subisce un ricatto ha il dovere di denunciare. E io mi sento di poter affermare senza alcun timore di smentita che quando un imprenditore o un cittadino si rivolge ad una forza di polizia o si rivolge ad un magistrato non viene mai lasciato solo. Ha sempre avuto il massimo del sostegno, il massimo della garanzia, il massimo della tutela. E allora noi dobbiamo affermare questo principio. Quando si verificano atti che limitano la libertà di ciascuno bisogna avvertire il dovere di denunciare perché si possa esercitare in piena libertà la propria funzione professionale, imprenditiva o di cittadino. Quindi i fenomeni estorsivi, i ricatti prodotti da criminalità organizzata, da andrangheta o da altri soggetti devono essere contrastati con forza e determinazione. Poi servono poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie forestali, polizia penitenziaria. Serve tutto questo. Ma se noi pensassimo di risolvere i problemi della legalità e di sconfiggere la cultura andranghetista e mafiosa diffondendo i nostri territori di poliziotti e carabinieri evidentemente faremmo un grosso errore che avvantaggerebbe sicuramente la criminalità organizzata. Il viceministro Bubico è sceso in Calabria anche per partecipare alla presentazione della relazione della Commissione parlamentare sulle intimidazioni agli amministratori locali alla presenza della Presidente dell'organismo Doris Lomoro. Bubico ha sottolineato la necessità di premiare la buona politica e allo stesso tempo rilanciare la funzione delle amministrazioni locali. La priorità in questo momento, ha detto, deve essere l'attenzione verso gli amministratori locali in una regione devastata dal dominio criminale e suggerimenti e indicazioni su come affrontare il problema sono contenuti proprio nella relazione della Commissione parlamentare sulle intimidazioni. Noi ora come Ministero dell'Interno ma come Governo stiamo approfondendo perché è una relazione approvata all'unanimità da tutti i componenti della stessa e contiene anche dei suggerimenti, delle indicazioni sulle quali indicazioni stiamo lavorando perché possano essere tradotti in atti amministrativi o in atti di natura legislativa. Emerge un quadro abbastanza omogeneo che per la prima volta segnala fenomeni di intimidazione anche nelle realtà più avanzate del nostro Paese non solo nel messogiorno d'Italia e quindi si pone un problema in ordine agli strumenti da mettere a disposizione degli amministratori locali perché possano esercitare più proficuamente e più efficacemente la loro funzione di responsabili istituzionali di quelle comunità.